Mr. Epifani, prima uscita della sua squadra, ovviamente poco più di un allenamento, si è visto anche il divaro di categorie, ma sicuramente tanti spunti tecnici che ha preso da questa gara. Innanzitutto è stato un bel allenamento, dobbiamo ringraziare la Vissiolatina che ci ha dato la possibilità di farlo, sono contento perché solamente dopo una settimana già inizio a vedere qualcosa che mi piace e sono contento dell'allenamento fatto oggi, è la cosa più importante. Ecco, i nuovi si sono subito integrati con l'ossatura della squadra dell'anno scorso? Sì, perché poi quando facciamo il mercato lo facciamo per conoscenza di giocatori, di calciatori e quindi questa è la cosa importante, perché poi quando prendi giocatori che hanno nelle caratteristiche il modulo che vogliamo fare, che hanno già fatto, quindi è anche molto più facile e quindi sono contento. Poi i vecchi che sono qui, vecchi tra virgolette, è facilito il mio lavoro perché poi l'anno scorso abbiamo lavorato tanto e quindi quando hai delle linee guida che già c'erano l'anno scorso è tutto più facile.